La produzione di contenuti didattici per il web può, dove necessario, favorire e rafforzare l'apprendimento in presenza, lo studio a casa e il recupero in itinere degli studenti. Il blog diventa il luogo in cui il docente inserisce i contenuti da lui immediati da offrire per gli allievi, un luogo che può essere arricchito con contenuti multimediali per rafforzare l'efficacia dell'apprendimento. Ma in un sito è possibile inserire sistemi di e-learning che offrono allo studente strumenti per verificare in autonomia le competenze raggiunte e quindi autovalutazione durante il processo di apprendimento. La creazione invece di un blog di classe in cui gli allievi sono chiamati alla produzione dei contenuti consente di potenziare l'interazione e il lavoro tra gruppi di studenti. Ogni allievo può diventare un produttore attivo di conoscenza condivisa e trattandosi di ambienti aperti al confronto con altri coetanei, è possibile sviluppare un senso di responsabilità, migliorare le capacità comunicative, critiche e di scrittura creativa. Ma come realizzare un sito web? Per la partecipazione al corso non sono necessarie conoscenze di programmazione o sistemistiche. L'intera attività formativa si sviluppa utilizzando applicativi web in cui la creazione e la gestione dei contenuti avviene mediante l'utilizzo del drag and drop, ovvero del clicca, trascina e rilascia. Il corso quindi si propone di fornire le competenze necessarie per la gestione dei contenuti didattici online mediante siti dinamici ai blog, i cui contenuti potranno essere gestiti mediante l'uso esclusivo di un browser internet. Vi aspetto quindi al mio corso.